Vabbè questa volta ci salvo perché mi spegnerà la cassetta e poi ci salvo perché mi spegnerà la cassetta Vabbè, siccome sappiamo tanto, altri numeri, io direi, per lancio, oh, eh, da, da una palla, Sardegna perde, l'applauso è tutto per il pubblico che vince. Grazie a tutti. Io ho già incorniciato, è il momento delle foto, si risparmiate dal fotografo, già è vero, non ci va più nessuno ormai dal fotografo, però magari va bene, andiamo avanti, perché c'è una peccuria di sudore, e quindi è un piacere reggere. Il pubblico non va mai contraddetto, quindi io scendo, e passiamo, dove vai, dove vai, e poi rimanete qua per il prossimo numero. Se io faccio così, mollate, bravi, tirate, wow, forte l'applauso, si vede che è ancora presto, mi hanno bevuto. Bene, forse ci siamo, cara, come ti chiami tu? Cinzia, ci vuole un accennino, e io ce l'ho. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 all Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.